Ciao a tutti, le nostre paure sono amanti segreti. Cosa significa questo? Significa che se temiamo qualcosa, ad esempio la paura di essere abbandonati, la paura di essere rifiutati, di non essere accettati come maschi o come femmine, come uomini o come donne, la paura di vivere dei sensi di colpa, cioè di ferire, di fare del male a delle persone care. Ecco, tutte queste paure che condizionano la nostra vita sono un po' come degli amanti segreti. Cosa significa questo? Significa che noi non ne siamo consapevoli, ma siamo segretamente innamorati di queste paure, altrimenti queste paure non ci sarebbero. Queste paure rappresentano una sorta, una fonte di emotività, di approvvigionamento emotivo e quindi se noi vogliamo essere finalmente liberi, non più schiavi, degli amanti segreti, dobbiamo liberarci da queste paure. Per liberarci ne dobbiamo farle venire fuori però. Tutto ciò che viene nascosto, tutto ciò che viene tenuto compresso acquisisce potere. Ecco, dobbiamo rendere questa amante non più segreto, dobbiamo renderlo palese. Cioè dobbiamo andare a passeggiare in centro, diciamo così, con l'amante, perché fin tanto che gli incontri avvengono nel sottobosco nascosto, nel motè nascosto, questo acquisisce potenziale, acquisisce potere. Ecco quindi che per liberarcene la cosa fondamentale è tirare fuori, amplificare, far venire fuori la paura. Lo diceva pure Paolo VI, il diavolo ha potere perché agisce nel sottobosco, nella penombra, nascosto. Una volta che il demone interiore, diciamo, viene fatto emergere, viene amplificato, tra virgolette, perde completamente il suo potere. E noi se vogliamo fare questo, dobbiamo agire in questo modo con quelle che sono di fatto le nostre paure. Chi volesse quindi liberarsi da questo, vuole approfondire il tema, può partecipare domani, venerdì 25 novembre a Torino, all'incontro, al seminario che terrò presso l'educatore della Providenza in corso 3013 per affrontare questo tema della gestione, diciamo, delle proprie paure, della propria emotività e della conquista verso gli altri. Il riferimento è sempre al 333 15 11 703. Ciao a tutti!